Oddio, Oddio! Oddio, Oddio! Oddio, 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 Oddio! Tu hai inventato l'accessore? E' un genio autentico! Sì, sì, sì. Amore, sono a casa! Chi è? E' qua, com'è? E' il sito? Sono aca, aca! Sono singoli, che vero! Vabbè! Che avventura! Orrenda! Che giornata! Finalmente! Allora, mi dava la prima! Lega di lettore, si! Uomo è umano! Una poltrona in pelle umana! Bella idea! Ma perché sembra la vita? Ah! Molto bene figliolo! Caffè giornale! Ah! Buongiorno! Che desidera? Io sono l'estremo! Ma abbia pietà, estrema destra! O estrema sinistra! L'estremo Nord! Ah! Ho capito! Lei è un eglista! Io sono Dio! Che prego di Dio! Ma ed è... scusate la mia pietà sull'altezza! E' il testo a due divinità! Come si dice? Vabbè! Ma a cosa dico la sua visita? Sono venuto per farti un regalo! Amore! Che bene! Ma una nuova valigia porta a cambiare? No! No! Tu sai cos'è la tecnologia? Eh... Sì! Mh... Mh... Quasi! Insomma! E' un regalo tecnologico! Tecnologico! Come son fortunato io! Tu sai cos'è il PC? Eh... Eh... Sì! E' tutto un... E poi... No! Eh... Ah sì! C'è un corridoio stretto stretto, no? Si arriva in fondo e poi si gira sulla sinistra... Ah no! Quello è il Vucci! Ah! Il Vucci! E' una leggerissima! Ah ah! A monte! Ho per te un Android! Ah... Ma è una sua amica americana questo che è? No! No! E' lussemburghese? No! Svizzero? No! Novi? No! Chi è? E' questo! E questo è il signor Android! Ma abbia pensato, forse lei non si è d'accordo, ma deve essere un modello napoletano perché si sono fregati tardi qua! No! E' un touch! Ah! E' un modello romano! Romano? Eh sì perché è touch sua! Ma touch tua che non capisci niente! Ma abbia pensato, ma lei ha un accento romano! No! Vaticanense! Ah! Vaticanense! Scusi! Questo è un Huawei! Lo sai che cos'è un Huawei figliolo? Eh... Eh... Sì... Eh... Allora dimmelo! Eh... Dunque... E' tutto un... E poi poi c'è un... Ah! Ah sì! E dunque... Dicesi... Huawei... E' un telefono direzionale! Perché praticamente... Wah! E' un urlo tipico di stupore napoletano! E poi c'è il Huawei e un saluto scambiato fra milanesi e lombardi dei mei trofini! No! Huawei... Huawei... Vabbè lo tenghi! Eh... Ma... Ma... Mi dà del Larry? No! Lo tenghi tu! Ah! Lo tengo io! Lo tengo! Lo tengo! Ma... Anche se è un regalo sprecato! Eh... Che... Neanche a te! Tu sei un ignorante! Un ignoratore! Ah! Che scommetto che non sai nemmeno che cos'è l'appendicino! Ah! Ah! Ma... Eh... Sì che lo so! Eh dimmelo! Che cos'è? Adesso! Adesso! E' un gancio! E' un gancio! E' un gancio a marcioli! Cioè... Nelle foreste a marcioli mettono questo gancio... Oh! Si! Scende e ci mettono le scimmie! E' per questo che si chiama... Appendici! Ma non abbia pietà! Ah! Bene figliolo! Sì! Ora ti lascio le due cose! Grazie! Sempre che tu le abbia! Ma... Come certo che le ho! A proposito! Ma che tasso dello spiglie giù sotto avevi il portone? Il portone! Ma scusi ma lei è l'estremo! Ma le apparizioni ha bisogno di... Del tasto! Ma... E per le scomparizioni? Devo ancora scaricare l'app! Ah! Ecco com'è! Vabbè! Allora io... Le apro la porta... La saluto... E arrivederì! 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 La mano! La mano! Vabbè! Vabbè! Aspetta! È andato! Ah! Che... Che avventura! Ve lo guarda che quello strano... Sono io! Ciao! Non hai ancora effettuato l'iscrizione al canale Victor Quadrelli? Fallo! E non dimenticare di attivare la campanellina! Così puoi ricevere gli aggiornamenti sui nuovi video! Ciao! Ciao!